Siamo andati al parco a passeggiare. A fine giornata mi piace molto leggere. La casa di Giorgio si trova in collina. Non mi piace viaggiare in treno. La riunione è in sala riunioni al terzo piano. Questo film parla della sua vita. In estate ci piace andare in spiaggia. Dei miei colleghi preferisco quelli gentili. Marco ha messo a tavola dei fiori freschi. Tra gli studenti solo uno ha finito. Quel bambino è sempre in giardino a giocare. Il negozio si trova nella piazza principale. Alla fine del libro ci sono i punti chiave. Non trovo le chiavi. Le ho lasciate in casa. Siamo andati al cinema. Sono tornato verso le otto. È andato in discoteca. Hanno fatto la spesa. Hanno parlato di lavoro. Hanno bevuto molto. Avete capito il testo. È entrato in un negozio. Siete saliti al sesto piano. Abbiamo venduto la casa. Ho ascoltato tutto. Il telefono ha suonato. Luigi ha portato Luca. Mio cugino sa parlare lo spagnolo. Io non conosco tanta gente qui. Tu sai dov'è la stazione degli autobus? Noi conosciamo un buon ristorante. Loro non sanno il mio indirizzo. Tu conosci il mio compagno di stanza? Chi conosce la città di Firenze? Non conosco nessuno in questa città. So che lui si è diplomato. Noi non conosciamo il tuo collega. Io non conosco il giapponese. Io non so parlare il giapponese. Io non conosco il giapponese. Voi non sapete quanto abbiamo pagato. Questa settimana ho conosciuto molti studenti. Tu sai come si cucina il pollo. Mia zia conosce una ricetta buonissima. Tu non conosci nessuno di Napoli? I miei colleghi non sanno quanto guadagno. Non so cosa ci sia in quella busta. Abbiamo visto un uomo che non conosciamo. Non so cosa ci sia in quella busta. E ora che faccio? Glielo dico o no? Anna ed Elena sono in ritardo. E anche Claudia è arrivata tardi. Luca deve leggere e imparare. Devi scegliere se ci vai tu o io. Ho degli amici che abitano a Dimola. Cerco e intorno non travo niente. hai detto a Elisa che siamo in città. Ad arrivare ci metto molto poco. Tramunta il sole ed è subito notte. Siete stati al mare ed era nuvoloso. La tua bandiera è blu e arancione. non so se lui è italiano o albanese. Il mio amico è magro e alto. A Napoli ci vado ad agosto. Domani ci svegliamo alle otto. Luca ci vede tutti i giorni. Claudia ci telefona stasera. L'ho sentito ma non ci credo. Ci sono molti italiani a scuola. Ci vuole moltissimo tempo. Non ce la faccio più. Non ci voglio più andare. Appena svegli ci laviamo. Voi ci avete invitati al mare. Luca ci ha dato un biglietto. Non ci capisco più niente. Domani c'è molto da fare. Ci vogliono più persone qui. Ce la possiamo fare a finire. Abbiamo la lezione tra cinque ore. Luca finirà il lavoro in dieci minuti. Anna abita in un appartamento. Vado in vacanza tra una settimana. Voi bevete un caffè in quel bar. Mangio gli spaghetti in un piatto. In classe si siede sempre in fondo. Andate in pensione tra sette anni. Compero il pane in un supermercato. Il nuovo cellulare esce tra due mesi. Le vacanze le facciamo in estate. Ho parcheggiato tra due macchine. Spesso mi piace stare tra la gente. Possiamo vederci tra non molto. Tu bevi l'espresso. Tu hai bevuto l'espresso. Marco chiede qualcosa. Marco ha chiesto qualcosa. Quando chiudono? Quando hanno chiuso? A chi dai la rivista? A chi hai dato la rivista? Voi non decidete? Voi non avete deciso? Anche lui dice la verità. Anche lui ha detto la verità. Loro sono in Italia. Loro sono stati in Italia. Che tempo fa? Che tempo ha fatto? Che cosa leggi? Che cosa hai letto? Dove metti quel libro? Dove hai messo quel libro? Chi perde spesso? Chi ha perso spesso? Cosa prendete voi? Cosa avete preso voi? Cosa avete preso voi? A chi scrivete? A chi scrivete? A chi avete scritto? Io sto in casa. Io sono stato in casa. Vedo i miei amici. Ho visto i miei amici. A che ora vengono? A che ora sono venuti? Dopo cena bevo il caffè. Dopo cena ho bevuto il caffè. Porto io i biscotti. Ho portato io i biscotti. Il mio. Il tuo. Il suo. Il nostro. Il vostro. Il loro. Il vostro. Il nostro. Il vostro. Il vostro. Il vostro. La mia, la tua, la sua, la nostra, la vostra, la loro. Le mie, le tue, le sue, le nostre, le vostre, le loro. Le mie, le tue, le vostre, le vostre, le vostre. Avete pensato alla vostra famiglia? Sì, ci abbiamo pensato molto. Hai spedito molte domande di lavoro? Ne ho spedite almeno venti. Quando siete andati al cinema? Ci siamo andati sabato. Signora, ha creduto alle sue parole? No, non ci ho creduto affatto. Quanti esercizi avete fatto? Non ne abbiamo fatto nessuno. Ti sono piaciute le sue canzoni? Me ne sono piaciute solo due. Quanti posti a teatro hai riservato? Ne ho riservati quattro. Che ne dici di andare al mare? Sì, ci potremmo andare giovedì. Ci andiamo con la mia macchina? No. Che ne dici di andare in moto? Sei mai stato in Sicilia? No, non ci sono mai stato. Come fai a sapere queste cose? Me ne ha parlato un amico. Hai sentito le ultime notizie? Sì, non ci posso credere. Ti è piaciuto il tuo dolce? Molto, ne vorrei un'altra. Quando finiscono le lezioni? Quando finiranno le lezioni? Dove vai questa sera? Dove andrai questa sera? Quando venite a trovarmi? Quando verrete a trovarmi? Quante ore studiate? Quante ore studierete? Dove pranzate? Dove pranzerete? Da chi si fermano a dormire? Da chi si fermeranno a dormire? Con chi esce Maria? Con chi uscirà Maria? Quando inizia il lavoro? Quando inizierà il lavoro?